Il progetto FLAG FOOTBALL che vedrà entrare i briganti nelle scuole medie della prima municipalità con il FLAG FOOTBALL una nuova disciplina sportiva per ragazzi e ragazze che non prevede contatto fisico grazie alle selezioni gratuite per gli studenti in programma da fine marzo. Noi proponiamo prima di tutto una disciplina nuova che è il FLAG FOOTBALL ossia l'applicazione del gioco del football americano senza contatto fisico ovviamente simulato dallo strappo di bandierine che si trovano su una cintura applicata ai ragazzi è importante perché lo possono giocare sia i ragazzi che le ragazze quindi diciamo nessuno escluda questa attività abbiamo deciso di organizzare poi una leva gratuita per tutti questi ragazzi diciamo adesso da fine marzo fino a giugno. È uno sport che sta via via acquistando sempre più la simpatia, l'accettazione dei ragazzi, dei giovani e quindi sicuramente noi come istituzioni non possiamo che seguire tutto questo favorire tutto questo e l'abbiamo fatto anche organizzando un impianto altro rispetto al Collana che fino a questo momento era l'unica casa sempre quindi al centro della città anche in una location bella, storica, paesaggisticamente valida qual è appunto il nostro bellissimo parco virgiliano. I briganti Napoli che quest'anno festeggiano il loro quindicesimo anniversario sono pronti al kick-off ufficiale della Serie 2 con l'obiettivo di migliorare le quattro vittorie e quattro sconfitte dello scorso campionato e di arrivare ai play-off. Noi siamo in un continuo crescendo sia in termini di roster che anche di organizzazione quest'anno ricorre il quindicesimo anniversario dalla nascita quindi il nostro auspice è quello di ottenere risultati ovviamente migliori anno dopo anno noi comunque siamo una delle poche squadre del sud insieme a Palermo che riescono ad essere competitive anche con il giro nazionale.